La Commissione Antimafia e una sua rappresentanza incontrerà a Leonforte i cittadini e i rappresentanti delle associazioni antiracket e il sindaco. Il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, guiderà questa visita che non ha niente a che fare con delle audizioni istituzionali, ma sarà una visita istituzionale all'interno del territorio della Sicilia centrale, di preciso a Leonforte. L'incontro si terrà oggi pomeriggio nel Salone di Rappresentanza del Comune del Paese della Provincia di Enna. A partecipare all'incontro sarà l'imprenditore Gaetano Debole, rappresentanza delle associazioni antiracket di Leonforte, il sindaco di Troina Fabio Venezia e il sindaco di Leonforte Carmero Barbera, il presidente dell'associazione antiracket di Gela, Renzo Caponetti. È giusto che la Commissione Antimafia conosca anche le esigenze delle comunità dell'interno della Sicilia ed in particolar modo della provincia di Enna, ha affermato il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra, che prenderà parte all'evento. Perché, come dimostrato dalle recenti operazioni degli ultimi anni, cosa nostra non è soltanto radicata a Palermo, Catania e Messina, continua Morra, ma anche al centro della Sicilia. Le operazioni a cui fa riferimento il presidente della Commissione Antimafia Nazionale sono Icaro, Omonovus e Caput Silente.